Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Peppab. Siamo nel nostro server che il link verrà messo sotto al video. Siamo qui tutti e cinque a cazzeggiare, a prendere materiali perché faremo una piccola serie. Una piccola casetta. In Granada. Una piccola casetta in Granada. No, io il tetto lo voglio. Ma guarda come è che sto a rompere la legna perché non ci arrivo saltellando. No, saltellando non riuscirai mai a farlo. Tante cose se riescono a fare saltellando. Aspetta amore ti reggo. No, questa è Barbara. Ti reggo. Io ce l'ho molto molte sorprende. Bravo, bravo. Consiglio. Si è davvero gravче il c YouT Chiu. Ti raccomando. Non è che sei tsåico, però così vado' a non vederci. Oh vabbè, ho visto un culo cubettoso e pensavo è appoggiandolo a giusto. Io porto il culo 30, woo code andato in giro per culo. Ecco il culo. Sono nitposto in questo mondo il culo cubettoso vuole essere bello. Aspetta un po', giusta, 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 giusta. Vieni qua Barbara. No, no, lasciami, lascia, vieni qua. Vieni qua. C'è pure il letto. Si vedono le stelle da con su, la con su. Ma anche da sotto le coperte si vedono le stelle, là dove. No. Amminando, camminando. Perché si scava sotto terra. Sì, perché non posso. Vabbè, io faccio la legna. Ma sì, altri ci ripiantano troppo velocemente, però, eh. Ma qualcosa che non va. No, ne te l'ho più, mi si pianta sotto i piedi tuoi. Se voi state facendo qui, io vado a trovare un po' di... di? Un po' di pietra. Ma che sto facendo qui? Guarda che si è imbucata pure Gabriella là sotto. Allora, trova il carbone. Trova il carbone se ci riuscite, perché mi hanno detto che è un'impresa. Trova il carbone. E quindi nel server che erano entrati prima, i ragazzi hanno detto, ma non si trova carbone. Ecco, l'ho appena trovato. Adesso sei scurato. Ma il carbone? Il carbone si trova a qualsiasi altezza. Ma pure io il carbone non l'ho trovato quando stavo a giocare insieme qui. Ma pensa tu. No, non l'ho trovato. Comunque penso che moriremo presto. Perché? Eh, se sta fa notte. Perché a notte non c'abbiamo ancora una casa. E abbiamo due letti. Perché non inizi intanto a far scena lì? No, non c'è la fazione o no? La faccio intanto. E prima fammi fare una casa randomica allora. La casa randomica. Poi ho fatto la legna. Che legna avete fatto? Io ho fatto quella scura scura scura. Eh, pure io quella scura scura scura. Se volete ve la passo e ci fate dei cubetti. Ve la vanno? No. Ok, hai detto bene. Vabbè, ve lo capito. L'importante è che ce la dai per farci ai cubetti. Sì, sì. Facciola, facciola. Anzi, se ho già fatto i cubetti. Ah, già ce l'ha data, se stiamo anche accorti. Ho fatto i cubetti che non si siete cattivi. Ma perché sei affalati un'altra? Cazzo. Che brutta sta legna però. Tante legna. La casa più brutta del mondo. Guardate tutti questi cubetti di legna. Vomiti cubetti di legna. Vomiti cubetti di legna. Guarda, sembra che è ricomita. Lo so io che c'è l'inquadratura. Facciamo un po' di luce, vado. Se non ci penso io qua. Eh, non c'è qua. Vieni cubetti, vieni cubetti, vieni cubetti, vieni cubetti. Che brutta sta legna. Io non lo voglio. E poi dopo la cambiamo. Dicono che è una casa molto scura. No, lo divono pure a me. È oscuro. È oscuro. Che cazzo. C'è una gallina, posso ucciderla? Tu morirai per mano sua. Qualcosa mi ha scoperto addosso? Non so cosa. Un crime. Oh, zombie! Oddio, come tu che muore? L'ho ucciso. In realtà ha parato il sedere a... A me. Oh, ce l'hai sempre con il mio cavolo di sedere. Mh, sedere, dove è sedere? Eh, ecco un altro zombie. Oh, atti gli zombie col tuo sedere. Eh, lei c'hai rotto il cupetto. Atti gli zombie. Oh, mazza, chi è? Un altro zombie. L'assalto degli zombie. Siamo altri cupetti, no? Oh, mi ha mancato il cupetto il cuore. Mi ha mancato la creatività. Non mi vuole dare. Sì. Ti piace vincere facile? Oh, mi si può. Si può. Non è citona. Citona. Beh. È più divertente, no? Sì, infatti è più divertente così. No, i citoni chiede voi che ho quitto duello, sinceramente. Che fai? Non è vero. Sì, che è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Lo posso rompere un po' o vi serve come muro di cazzo? No, non me lo rompere. Erro. Vabbè, te la magia è fatta. No, fermo. Ma fra, io te lo dico. Ma perché tu hai sempre sparato? Sì. Sta fissa. Perché è protetto. È protetto dalle ombre del buio. È Batman. Cavolo, fra. È Batman. Ma io... Oh, cazzo Creeper. Oh, cazzo Creeper. Oh, cazzo Creeper. Oh, cazzo Creeper. Io mordo due colo. Ecco. Ah, mira. Non so sicuro che è la metà. Potrebbe essere un quarto. Potrebbe essere anche dieci. Potrebbe essere... Potrebbe essere... Una parte della prima parte. Potrebbe essere due. Una parte della prima parte è carina. Che vale, sti zombie. Non mi avrete mai vivo. Che bella mezza volta. Sono chirito, non mi toccare. Sì. 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 Ma siamo più grossi stagate. Eh beh, siamo tanti. Milioni di milioni. La squadra di milioni. Ma dentro solo bra... Che bello, abbiamo il bra a Farmer. Tutto quello che non mi piace, andai in miniera. Sono pure a tre milioni. Ma fra... Però non era il griefer. Vabbè. Però è multi... Multiuso. Si uso. Però possiamo usare come... Fatta da salto al presente. Io voglio il vetro, regà. Certo. E' tutto legno. Eh, devi fare la sabbia. Eh lo so, ma ora dove vanno... Intanto ci conviene coprire che si viene qualche ragno dentro ci fa... Lì. Dopo vado nel deserto e farmo la sabbia. E' così bello il deserto. Non c'è niente, ci sono... Non vabbè ci sono... Ma perché? Non vabbè. Sto prendendo la mela, porco mela. Melo sushi? Oh, figlio. Ah no, non lo so. Oh, vai a andare. Sì, è un tizio. Tranquillo. Sì, è un tizio. Guarda che c'ho. Due cubetti. Vetti bianchi. Oh! E' uno stress freddo Alessi. Non ci faccio niente. Che ci facciamo con vetti bianchi? Eh... 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 Poco niente. Scusi. Signora Bels, scusi. Dai che vuoi. Mi levi la protezione? Eh sì, auto mette, la devi togli tu o lei? Eh eh. La devi togli lei? Eh eh. Ma la può togliere? Sì. Fai... Fai... Slash, chest... Unlock. Unlocked. Unlocked, senza unlocked. Non so. Unlocked. Ma perchè? Perchè c'è stata la protezione delle chest. Ah sì. Se può pure condivide, però poi dopo ci impariamo. Fai a te? No, ancora bloccato. Unlocked. Struttura. Non gioco più a mantra, se non ho rotto le palle, guarda. Slash, chest, unlocked. Slash, chest, unlocked e tre. Unlocked. Unlocked. No, c'ho... No, c'ho 10 cubetti delle legne bianche. E poi ci posso fare un pezzo del... Del cestetto. Dai dai. Facciamolo. Slash, chest... Unlocked. E aprirle. Tanto sono predette da faction, comunque. Tutta dentro. Dice che a me viene la mia pezione e la pezione qui. Eccola, ma è aperta. No. Ah, solo da un lato. Dall'altro no. Che figo. Dai. Che cazzo d'è? Cioè, se l'apro dalla parte testa me lo apri. Se la parte testa me lo apri. E della invece è alloccato. Che stile. Dilla dove? Sì. Sono a metà le. Le conta come se fossero due. Da una parte è chiusa e da una parte è apribile. Ma l'ha fatto storto sto quadrato, scusami. Vabbè fa niente. Allora, tenne qui. Basta si apri. Ci fa un male, bimba. A me l'ha apri tutta. E' la tua. Oh! No, quella da lei. Creeper. Ho un luccato adesso. Ho un luccato. Crepa Creeper. Creeper crepa. Ma mi sei fatto la... Ma l'ho fatto il fellennio. Ah, zombie. Ahia, due. Ahia, tre. Mori. Una pecora ci serve? Mori. Che mo' fia di quadratini? Sì. Che mo' fia di quadratini? Ah, non sono davvero. Quanto carbone. Mi raccomando che non si trovava. Sì, infatti. Sì, lo fia. Scusate eh. Tutti i sbaglianti voci. Si trova più ferro a carbone che Cobberson. Ok, casa è chiusa. E' una casa chiusa? E' una casa chiusa? No. Perché le case chiuse mi ricordano qualcosa di più. Sì, anch'io. Ma ci sono solo quattro lettini. Io ho portato una lana. C'ho una lana. C'ho una lana. Ma non c'ho un po' di quadratini. C'ho due lane. C'ho una lana. C'ho una lana. No. Sì. No, no, sì. Dammi la lana. Dammi la lana. Sì. Ma lana ti minaccio con il piccone, con la palla, ti tiro una patirata a un fronte e ti faccio un'infrazione. Una spatata. Che cazzo. Dove hai trovata una pegola di sto colore? Una pegola di sto colore? Io ne so. Ho mangiato il mob e me l'ha dato. Ma faccio pure il sbagliamento, regà. Con i pochi quadratini che abbiamo bianchi. Ma non lo so quanto ti convenga. No. Venga. No, non si può fare con sta legna. Che è? Che cosa? Non è vero. Ah, no. Questo non è. Che culo, però. Ma se io scavenzo... No, me ne manca una di lana. Di lana. Un momento. Stavo un attimo. Vado a cacciare una lana. Ana, ci stai andando tu. No, io sto andando a prendere la lana di quella pegola dall'altra parte. E uno zombie ti sta venendo in faccia. Dio. 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 Oddio. Come farò su una piccola donzella in pericolo. Aiuto. Ma kitty. Aiuto. Ma kitty duorte. Aiuto. Ma kitty duorte. Aia, aia, aia. Chi cacchio? Barbara? 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 Cappa, sei fecappa? Aia, aia. Ci muoio. Adesso muori. A culo. A culo. Mezzo cuore. Poi dicono che non si trova a Carboni, l'ho trovata in superficie. No raga, è entrato un mini zombie mentre stavo facendo altro. Sono morta! Barbara! Entra, tu stai... Ma lei ha già la miseriancia stronzo. Non è... Non mi sto figata. Non so quanta vita c'ha. Ma voi dove state? Ho formato... Ma lei ha 더 una base. Com'è che entrono t'i cosi raga? Non lo so. Forza era buio? E' giù una pugna. Ho trovato una grotta io. E' giù una pugna la prima. E' agita te lo oooom. Chi c'è? Andiamola ommo? Come sentiamo l'om e non... Aspettai... F7 omma. Ah, non si può, sono anche di qua, quindi GG wallplay. Ma tu, aggiorno? Non lo so. Arrivo. Che è? No, sto facendo da sola. Vai, clemo ha un pezzo di pesadina, ho fatto pure due sette al tetto. Ma la legna bianca la davano gli alberi quelli, non questi. Che stai? Sì. Ok, slash FFM. Io faccio un altro po'. Prova un po' a fare slash FFM. C'è ancora la dina sul tetto, regà. Ok, beh, adesso tutta questa zona è protetta. Allora... No, per adesso non serve, intanto vediamo questi, vedo quando ci allarghiamo, ci allarghiamo. Tu vuoi restare sicuro? Certo. Ok, sono cinque, i letti. Però sai che c'è? Che ora ci penso sono utili i letti. Ok. Ok, non siamo solo noi nel server. Ah no, siamo solo noi, io vivo. In questo momento sì. In questo momento sì. Tutti a dormire a quest'ora. Tutti a fare la ninna. Tranne. Tranne noi, tranne noi, tranne noi. Sarei nerd, schifosi. Sì. E ne andiamo fieri. Ne andiamo a fiera. Ma parla a te. Fiera dell'est. Morto il culo, 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 morto il culo. Morto il culo, morto il culo, morto il culo. Spari. Colo, 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 colo. Dove sei la enderman? Al fianco. Quell'altro va a caccia degli enderman. Muori. Alpino ci abbiamo più... Che roba tipo alberi... Solo hidden quando... Mi gira da ammazzare gli enderman. Non piace uccidere gli enderman. Mi gira da ammazzare gli enderman. Atrox Vai Atrox Oh c'è una pianura qua Eh la pianura sarebbe buona Altre cani da zucchero Vado a prendere Vado a rompere un po' d'erba così Io faccio la legna più grande Coltiviamo No ma schicola Che bordello, non siamo proprio sgalenziati con niente Chi noi? Eh quanto mai? Ma perchè so che c'è sto dici? Questa casa non è un albergo Ma il vedere è bruttissimo Sembra tipo Vida de montagna Questo valore, solo che stiamo a mezz'anno Oggi un trovello d'oltre Quindi mi stai dicendo che ti sarebbe contanto Ma iiiti Oh ecco Le piccolelle che fanno ciao Aia 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 Hai visto nerd scavatore? Quanto ha scavato? Bravo Lascialo qua E lascialo scavare? Che t'ha fatto le mani? A me manca qualcosa pericone Guarda sto zingaro Guarda 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 come ci fa cavoli sono Non lo divide Non c'è un'armatura di ferro Non lo divide Non lo vede la porterà Non lo vede la porcie la Poi perché qua piene i mostri Darci loro Che tonno Per scuse cazzo c'è lo spawn degli scheletri, c'è quest'altro che dungeon qua c'è un enderman, dove sei enderman? raga abbiamo la farm degli scheletri buona quella stia non trovo questo va beh ma che legge di sale? io sto a prendere la legna con la bianca ho trovato la vecchia roba qua dentro pure i dischi, guarda ho trovato quelli secchi, ho trovato tutto beh ma che cosa? ma qualcuno lo rubavano no no, venite qui dove sto io è lo spawn degli scheletri ma io sono una legna merda tra quattici altre torce? se contorno dovrà? torce in contorno ma se ci vedi torce poi devono spawnano più non devono spawnare spawnano quando servono a noi diciamo come a decidere? no vabbè figata spawn delle scheletri a prima botta abbiamo la farm infinita di cibo raga perchè stanno le ossa quindi le ossa? ah fai l'osso vai gg leggo seggi pure qua dove sto io con i scheletri non so se mi vedi in superficie non lo so che cazzo stai? aspetta prova a scavare in alto e faccio così aspetta ma sei da andare giù da sta discesa a fianco casa? no io sto vicino a casa a farla mia tipo dove stanno via per i bianchi ma non ci possono più mettere i segnalini che dicevano che posto era? no quella era la mod ah fatto panci panci fa fa qual eh oh cacchio stai a ah dove sei andato a scavare? arriva arriva qua in superficie non serve che vieni qua che sto in superficie? a fianco a casa eh non devi stare a fianco qua e dove devo stare? aia non te lo dico aspetta oh come non puoi sapere? uffa mi manca la roba di diamante la mia cosa si romperò e si mette cazzo e la seconda a scavare sono arrivato sono asciuto fuori suona male ma non ti credo comunque qua qua dove stai? eh dove stai? qui qua qua mi vedi in alto? aspetta famo una cosa tpa accetta va flash tpa accetta facciamola facciamola regola al teletrasporto ecco come vuoi male? qui sotto c'è sta quanto lontano sta da noi? non lo so non lo so ah no manco tanto quindi dovrei proteggere qua si eh qui c'è? mi sa che c'è la cosa quella lì dei climb vicini quindi per adesso non te lo posso chiedere ma ah no? e allora niente fa segnate le coordinate segnate il posto faccia una torretta faccia una torretta faccia una torretta faccia una forma di qualcosa un albero finto un albero finto perchè dici che deve stare deve stare connesso alla roba della fazione nostra mi sa che devo qualche piccolo cambiamento chi è cresciata? nessuno lì alla la sabbia mi serve semmai la prendo qua c'è dove fai? troppo sapeva è cresciata abbiamo perso belts apriamo a dove è la nuovezza? non lo so ah ah comunque solo idam lo trova i dungeon così eh? si infatti non doveva toccarci i dungeon ma anche proprio questo e lì eccolo è ringraziata molto felicemente solo tu ci vai dai tu dici la sua avrai che lascia il ferro un giro che lascia il forro? intanto l'armatura se l'è fatta io mi hai porto il ferro ma è stata scavata io insieme a me quindi è possibile che l'ho scavato e l'ho rimasto lì? no no stava proprio all'inizio dell'estate quindi è possibile che l'hai visto ehm ragazzi ehm qui ci stanno quattro creeper eh ci conviene io con io mi conviene per casa mi sa eh notte si ha schioppato uno si ha schioppato uno sono morti tutti tu fai chi cazzo? tu fai la sabbia tu fai porti sua arrivo eh vai io torno a casa eh ce la trovo tu stai a casa tu stai a casa fai i slasher film ehm no vabbè l'ho trovata senti che cosa non so che dobbiamo eliminarla ci abbiamo la roba da qua c'è giusto? perchè se volete c'ho la sabbia e tutto tutti a casa che dormiamo a vedere la cosa c'è sta a casa sembra le stanzette quelle del campus si eh lo penso il fatto c'ha i colossi creeper no ma sono fuori io metto a cuocere la sabbia? che atti dopo l'altro per me mi sembri col salto? ragazzi ho trovato un altro posto questo strano qua vedete vedete ah c'ho abbastanza legno a bianco ma sono razzista sei un pochino alternativo eh lei eh c'è una freccia piccata alle palle ahia lo vede ah se senti dolore sei dolorosa no ma quella non è una freccia no no guarda ma quando vuoi tu mi fai se c'è i materi si perchè il legno chiaro ho droppato un arco il legno chiaro Ale mi devi andare a fare il legno chiaro stai vicino a casa del legno chiaro ma perchè? questo sono io e se lo vuoi è così se lo voglio eh lo vuoi eh io lo voglio lo voglio vado non ho trovato comunque una patata ti piace la patata e tu sei indeficiante ma gliel'ha detta proprio la ritrovo la patata si ritrova si vabbè cioè bravo siamo in un paese in cui la patata ormai è difficile da trovare diciamo la verità no si trova però è salata no non si trova perché mancano i filetti? erano tanti per per i bavimenti no le rimetto io riesco ad arrivare fino a qua quella legna che c'ho però non è brutta così c'è un aspetto diverso queste finestrelle madonna sono proprio del cazzo allora un lettino lo mettiamo qui come si mette il lettino? col destro però ti devi allontanare un pochino ecco brava non ti manca un altro ho un arco e so come usarlo un altro lettino lo mettiamo sono un elenio morta una gallina ma se li fanno avvicinati le atti sono se volano troppo squadre infatti c'è un testempo perché si è bagga ma li puoi fare vicino? si che li puoi fare vicino è bello se si riesce a una squadra la nostra gallina se ne fa un'altra ah quello è sicuro come lui che si è mangiato una patata qui ci vanno a cercare un'altra gallina vecchia fa buon brado e che si è avvicinato meglio una gallina oggi che l'uovo domani ma te lo fai recattivo lo stesso ma te lo fai recattivo lo stesso troll 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 che dire? si può buccare chi? sembrava si può buccare? si può buccare? si può buccare? e gabriel no no la legna ce l'avevo per fare un stab amore hai trovato 4 gold bravo ti posso dire una cosa? per prima volta per una volta posso dire che sta casa è proprio una merda si beh marone scuro è quella a te Ale ma vieni qui con un letto si ridammi i miei panini ma è vero ridagli i panini di testa di qua ce l'hai tu non è vero però perchè è brutta la schiacchiera non è brutta è la casa in legno scuro che da un brutto effetto però se vuoi c'è quello chiaro ce ne ho altri 40 no 64 ve lo passo e ci fate tutto il resto no qui no Ale qui è per passarci è uguale basta che non ci salti no io sto scomodo poi dopo io salto se ci salti sei scemo perchè io ci salto su sta riga per correre più non ci devi saltare non devi saltare non salta un altro allargalo no fagli una altra striscia più nell'acqua e qui chiudi no vabbè io intanto prendo un po' di clay ti posso dire una cosa? ehm no si no ma la sua decisione di fare allargare con la terra mi ha fatto scurezza no 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 ma perchè hai fatto st'altra stanzina strana? fate firmi e stavo a prendere un attimo la clay ti ho chiesto perchè non ti ho detto no no stava dire a me che bici si l'ho fatta avvenuta come filardi e cavi dai c'è si stanno a casa non ci torna nessuno perchè? si 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 torna a casa Lessi stiamo tutti a formare ma io sono il mio videologo che sta a casa ma io sono il mio videologo che sta a casa lui ciao ciao